Samira Andanovic o Andrea Onana, l'usato sicuro contro la novità, quale tra i due sarà il nuovo portiere dell'Inter nella stagione 2022-2023? Simone Inzaghi sicuramente si ritroverà tra virgolette un problemino a partire dal prossimo anno, ma tutti gli allenatori vorrebbero avere abbondanza in tutti i reparti e soprattutto in porta alla luce di quanto avvenuto lo scorso anno con l'errore ormai strafamoso di Radu nel match. Perso dall'Inter al Dallara contro il Bologna, quale tra i due però sarà il titolare? Vi anticipo che faremo in questo nuovo episodio un'analisi statistiche ma non solo, un'analisi abbastanza lucida anche su quello che è successo nell'ultimo anno e vi anticipo che il risultato finale non è così scontato e potrebbe anche non essere condiviso. Amici e amici di Passione Inter ben ritrovati, un nuovo contenuto, quest'oggi facciamo un passo indietro, abbiamo parlato tanto di mercato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, difesa, centrocampo, attacco. Oggi retrocediamo di qualche metro all'interno del rettangolo di gioco e ci spostiamo sulla porta tra i pali perché di mercato dei portieri non si è più parlato visto che l'Inter Onana lo ha praticamente bloccato lo scorso gennaio. Sempre a gennaio il nuovo portiere dell'Inter aveva già sostenuto visite mediche, ha firmato il nuovo contratto che lo legherà all'Inter, manca l'ufficialità, potrebbe arrivare dopo il primo luglio ma Onana a tutti gli effetti lo consideriamo già un nuovo portiere dell'Inter, è stato pure un paio di settimane fa a Milano in occasione del match di beneficenza organizzato da Samuel Eto' in quell'occasione ha fatto anche visita alla sede dell'Inter di Viale della Liberazione per cui lo possiamo considerare un nuovo giocatore nero-azzurro a tutti gli effetti. Su questo non c'è alcun dubbio. Adesso perché il contenuto di oggi perché vogliamo anticipare le scelte di Simone Inzaghi, vogliamo prevedere soprattutto poi ovviamente non è una scienza esatta, lo facciamo in base a statistiche e ragionamenti anche extracampo quasi, però insomma ci proviamo e vogliamo sapere ovviamente anche la vostra. Per cui vi invito innanzitutto a lasciare un like a questo nuovo episodio e ad iscrivervi perché noi anche questo pomeriggio saremo in diretta dalle 19.30 per cui torneremo anche sul tema Onana vs Andanovic e per commentare la diretta dovrete essere iscritti al canale quindi fatelo mi raccomando. Partiamo però con qualche statistica. Dopo entriamo su altri ragionamenti che riguardano altre qualità. È stato anche difficile confrontare perfettamente i numeri di Samilandanovic e Andrea Onana. Perché? Innanzitutto perché i due fanno parte di squadre completamente diverse, no? L'Ajax e l'Inter hanno due storie diverse negli ultimi anni ma non solo perché vengono da due campionati opposti. Da una parte quello olandese che non viene considerato tra i top 5 campionati in Europa ma neanche tra i top 6 e quello italiano invece che in questo momento è terzo secondo i ranking della UEFA. Per cui insomma parliamo di storie completamente diverse. Il campionato olandese è stradominato da anni dall'Ajax e quelli italiani invece nettamente più equilibrato come dimostrano soprattutto le ultime tre stagioni. Per cui evidentemente i numeri, lo ripeto, non dicono tutto per questo faremo anche altre riflessioni per cercare di rendere l'argomento e l'analisi quanto più completa possibile. Qui guardando ad esempio alcune statistiche che fanno riferimento alla stagione scorsa di Andanovic 21-22 e alla 19-20 per Onana perché Onana è stato squalificato per nove mesi da febbraio 2021 a novembre 2021. Poi nell'ultimo anno stagione 21-22 ha giocato poco, qualche presenza in Champions, sei presenze in campionato. Insomma ha giocato soprattutto in Coppa d'Africa a gennaio, con l'Ajax invece praticamente è stato messo ai margini. Per cui abbiamo preso l'ultima stagione completa di Andanovic 21-22 con l'ultima completa di Andanovic 21-22. Le ha giocate tutte in campionato e praticamente 37 partite giocate, solo quella col Bologna per infortunio saltata dal capitano Nerazzurro. Nel caso di Onana in quell'annata invece 24 partite giocate. Fanno riferimento alle statistiche al campionato olandese e al campionato italiano. In questo caso se andiamo a vedere ad esempio la percentuale delle parate è più alta quella di Samir Andanovic, 78,5% contro il 72,5% di Andrè Onana. Questo dato però può essere giustificato. Intanto la differenza non è così netta, può essere giustificato da cosa dai tiri in porta, 121 subiti da Samir Andanovic contro i 69 di Onana. Per cui aumentano i tiri in porta, subiti dai Nerazzurri aumenta comprensibilmente anche la percentuale delle parate. Difatti siamo ad un 94 contro 50, però sono numeri comunque da questo punto di vista abbastanza simili. La stagione di Andanovic, lo sappiamo, non è andata benissimo, ha vissuto però alti e bassi, anche momenti importanti. Questo va riconosciuto perché spesso vengono fatte delle critiche anche troppo ingenerose nei confronti di Andanovic. È evidente che negli ultimi due anni il rendimento sia calato, ma il prossimo 14 luglio compirà 38 anni, per cui fisicamente è inevitabile che vi sia un calo, soprattutto a livello di reattività, di riflessi. Non è un mistero, però insomma non condivido al 100% tutte le critiche, alcune generose che sono state fatte nei confronti di Samir Andanovic. Perché? Perché Andanovic io lo definisco soprattutto un grande lavoratore, ottimo professionista, grande lavoratore. Perché? Perché lui all'Udinese non aveva la stessa qualità nel gioco coi piedi. Una caratteristica che ha dovuto imparare, gioco forza, perché per l'evoluzione la direzione che ha preso il calcio moderno, ma lui non era così bravo nella gestione coi piedi, sia col destro che col sinistro. Se guardiamo ad esempio i numeri che riguardano appunto il gioco coi piedi, Andanovic in media partita tocca 38 palloni, contro i 35 invece di Onana. In questo caso fanno riferimento all'ultima stagione, quindi prende in considerazione tutte le competizioni, anche la Coppa d'Africa è giocata da Onana e la vera stranezza comunque rispetto a quelle che erano le mie aspettative è stata vedere la precisione nei passaggi dei due portieri. È più alta quella di Samir Andanovic, 83% contro il 77% di Onana. Premessa, coi piedi Onana è più bravo rispetto a Samir Andanovic perché lui è cresciuto con questa mentalità, lui è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, una cantera nella quale i portieri vengono sviluppati a 360 gradi, soprattutto col gioco coi piedi perché rappresenta la massima filosofia del Barcellona. Quindi individualmente Onana sia col destro che col sinistro è più bravo, dopodiché queste percentuali vengono anche condizionate da quello che è lo stile di gioco. L'Inter negli ultimi anni è cresciuta tantissimo sotto questo aspetto. Nel gioco coi piedi, soprattutto con Simone Inzaghi, abbiamo visto quanto è centrale la presenza del portiere anche in fase di impostazione. In una partita quest'anno Andanovic ha tenuto il pallone per oltre tre minuti in tutta la partita. Numero spaventoso, se consideriamo la media in ogni partito o in genere del campionato italiano, è andato oltre tre minuti di possesso solamente Samir Andanovic. Quindi questo fa riferimento, il numero che riguarda i tocchi, ma anche la precisione, alla natura del gioco di ogni squadra. E anche qui dunque Inter e Ajax sono completamente diversi, anche perché giocano un calcio completamente diverso. Questo per quanto riguarda le statistiche. Appunto, non andiamo oltre perché prendere le statistiche di Onana negli ultimi due anni, è onestamente molto complicato, sia nella stagione 20-21 che nella stagione 21-22. Ha giocato davvero poco a causa della squalifica, specialmente nell'ultima annata, quando poi è stato messo ai margini dell'Ajax. Addirittura ad un certo punto ha avuto spazio sia in campionato che in Champions League perché si erano fatti male i due portieri titolari, il primo e il secondo. E quindi Onana gli ha avuto spazio, però il rapporto con l'Ajax ormai si era deteriorato. Nonostante Onana abbia vissuto comunque grandi stagioni come portiere titolare dell'Ajax. E questa secondo me può essere anche una garanzia per l'Inter che prende un portiere giovane, un classe 96 ma già con tanta esperienza a livello internazionale. Andiamo avanti analizzando anche altri aspetti. La leadership di Samir Andanovic. Del calo abbiamo parlato fisiologico e dovuto all'età, anche Buffon ad esempio negli ultimi anni, insomma adesso anche lo scorso anno a Parma non è che abbia fatto benissimo, però insomma ha registrato un calo, ma non solo Gigi Buffon ma tanti altri portieri arrivati ad una certa età e Samir Andanovic non fa chiaramente eccezione. Ecco, anzi i portieri rispetto ai giocatori in movimento hanno una carriera potenzialmente più lunga. Ecco, in genere l'età media di un portiere, l'età media ovviamente da calciatore in attività è più lunga rispetto ad un calciatore in attività di movimento. Però se guardiamo un altro aspetto che è la leadership di Samir Andanovic, questo mi fa riflettere perché? Perché Andanovic la fascia di capitano l'ha ricevuta un po' casualmente, è vero, l'ultima stagione di Mauri Cardi con la famosa convocazione difiutata in Europa League da Mauri Cardi, la scissione, la rottura dei rapporti e dunque la fascia di capitano che è stata spostata con una scelta forte da parte della dirigenzione azzurra dal braccio di Cardi a quello di Samir Andanovic. Però se l'è meritato perché è sempre stato un gran professionista come dicevo prima, un grande lavoratore, un leadership ma di quei leader silenziosi che non ha bisogno di urlare ma che riesce a guadagnare il rispetto dei compagni tramite il lavoro in campo e lui secondo me ha vissuto delle stagioni pazzesche all'Inter nei momenti più bui, per cui anche questa sorta di riconoscimento secondo me se l'è meritato automaticamente. Nei primi anni quando l'Inter faceva fatica e aveva in porta uno dei migliori cinque portieri in Europa, secondo me nei primi anni di Andanovic all'Inter, eppure lui mai una parola fuori posto, quindi attenzione. Ha un carattere però allo stesso tempo complicato, lui ha rinnovato ma ha ricevuto la garanzia di potersi giocare il posto a titolare, Andanovic ha rinnovato non per fare il secondo di Onana e questo è chiarissimo, per partire alla pari con il nuovo estremo difensore dell'Inter per cui non sarà facile togliere il posto e la leadership di Samir Andanovic, attenzione, anche di Radu si diceva lo scorso anno, negli ultimi due anni, più che lo scorso anno, per cui non è facile gestire la coabitazione con Samir Andanovic e ci renderà complicata la vita di Onana. Questo è un primo aspetto che mi porta a quello che è il risultato finale di questa riflessione. Il secondo, Onana nell'ultimo anno ha giocato davvero poco, negli ultimi due anni anzi, la squalifica da febbraio a novembre del 2021 evidentemente lo ha ridimensionato, non ha fatto benissimo in Champions League, ricorderete l'errorino in quell'uscita contro il Benfica che favorì i gol di Lugnes e la qualificazione ai quarti del Benfica. In Coppa d'Africa qualche partita di livello, tanti errori però, due papere in tutta la competizione sono tanti. Dal mio punto di vista è giustificabile perché un portiere più di tutti ha bisogno di giocare. Il caso estremo secondo me può essere ad esempio Meret, grande talento del Napoli, ha giocato però poco perché in quel caso una scelta tecnica, Spalletti gli ha preferito Spina perché è più bravo nel gioco con i piedi, però gioca due o tre partite l'anno, viene schierato con l'Empoli e commette due errori grossolani, eppure è un grande talento e l'ho già dimostrato in passato. Il portiere ha bisogno di giocare, Onana ha bisogno di giocare. Quindi questa è la vera incognita. Dopodiché faccio un'altra analisi, vale a dire, non sono così sicuro che Onana guiderà la porta dell'Inter nel prossimo decennio. Onana arriva per due ragioni. La prima in assoluto è, si liberava a costo zero e l'Inter ha colto questa opportunità in un momento non facile, in un momento nel quale i portieri costano anche tanto. Un anno fa Musso, che era uno degli obiettivi dell'Inter, andò all'Atalanta per circa 20 milioni di euro, per cui non è facile acquistare un portiere forte in questo momento storico. Onana a costo zero, l'Inter coglie l'opportunità. Ovviamente non lo prende solamente perché ha la possibilità di non pagare nulla per il suo cartellino, perché è forte. Tante stagioni all'Ajax, tante stagioni in Champions League, ha già dimostrato di essere un grande talento, è giovane, un 96, per cui i migliori anni da portiere, secondo lo storico, li devi ancora vivere. Un portiere in media vive le migliori stagioni dai 28 anni ai 34-35. Per cui Onana il miglior momento, il miglior periodo della sua carriera ancora lo può vivere, quindi l'Inter sfrutta questa possibilità anche in funzione delle potenzialità. Dopodiché potrebbe non essere una scommessa vinta al 100%, però era un'opportunità che l'Inter doveva assolutamente cogliere. Sarà determinante questa stagione per capire se il portiere effettivamente può ritrovare brillantezza, se evidentemente non ha sofferto le poche partite giocate nell'ultima stagione, e dunque solamente il campo alla fine poi ci darà il verdetto finale. In ogni caso, considerando le statistiche, i discorsi che abbiamo fatto anche sul leadership e sulla poca continuità di Onana nelle ultime stagioni, io sono portato a pensare che Andanovic sarà il portiere titolare dell'Inter, almeno inizialmente, in una prima fase. Dopodiché, non parlo solo di lungo periodo, ma anche in questa stagione Onana potrebbe rubare il posto a Samir Andanovic, ma non mi aspetto di vederlo alla prima di campionato in porta al posto dell'attuale capitano nerazzurro. Dopodiché, a partire da gennaio, post mondiale, Dunque, Onana potrebbe anche giocarsi le sue possibilità e scavalcare Samir Andanovic, perché comunque Andanovic un calo lo ha dimostrato nell'ultima stagione, quindi non è il portiere titolare dell'Inter al 100%, e si giocherà il posto con Onana. Onana deve allenarsi duramente e avere delle opportunità, dovrà essere Inzaghi anche bravo a dargli qualche opportunità e meritarsi in campo di poter essere il nuovo portiere titolare dell'Inter. Risultato finale? Mi aspetto di vedere Samir Andanovic ai nastri di partenza come titolare dell'Inter. Ovviamente chiedo il vostro parere nei commenti, ne parleremo anche nella diretta di quest'oggi, è un tema che abbiamo già discusso anche con i nostri abbonati sulle club che trovate su Discord, ne parleremo, anche ne parliamo tutti i giorni, in diretta alle 19.30 con i nostri abbonati. Vi ricordo l'opportunità per abbonarvi al nostro club, trovate qui in basso, lo vedete il sito www.passioneinter.club, sito nel quale potete abbonarvi, se volete abbonarvi invece al canale YouTube, è facilissimo, lo potete fare tramite il tastino abbonati che trovate qui in basso. Prima di chiudere io mi rivolgo sia a chi ci segue in podcast, sia a chi ci sta seguendo invece in video su YouTube, vi voglio consigliare un video molto interessante e imprescindibile, secondo me per questa settimana, pubblicato ieri, nel quale abbiamo fatto un po' e reso conto delle possibili notizie più importanti di questa settimana. Comunque quello che ci aspettiamo possa avvenire in questa settimana, a partire dalla giornata di domani con le visite mediche di Romelu Lukaku previste a Milano prima del grande ritorno ufficiale di Big Rom come nuovo col calciatore nerazzurro per la seconda volta in carriera, per cui per chi ci segue in podcast vi lascio il link in descrizione, per chi invece ci sta seguendo su YouTube vi lascio qui il video per recuperarlo. Noi ci rivediamo questa sera, mi raccomando, dalle 19.30 in diretta su YouTube e Twitch. Ciao! Ciao!